Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Primo video di FIFA 16 ragazzi, sì, perché arriva così tardi il primo video di FIFA 16. Avevo degli esami da fare e quindi non ho potuto portarvi niente di FIFA 16. Come sapete tutti è uscita la demo, come sapete tutti ormai vi hanno rotto i coglioni con tutti questi video di FIFA dove vi spiegano tutte queste cazzate che uno ce la fa anche da solo per capirle. Comunque, siamo su Foot Draft signori, ma con una squadra molto particolare perché facendo, come ben sapete in Draft, la formazione abbastanza casuale alla fine perché i giocatori te li da lui, ma tu comunque puoi sceglierli, quindi un 50-50. Ma a chi mi è capitato signori? Il trio delle meraviglie perché oggi giochiamo con Neymar, Suarez e Messi signori. Guardate qui che bel tridente d'attacco. 4-3-3, io solitamente gioco con questo modulo se non il 4-1-2-1-2, sì ci siamo. Purtroppo la squadra sotto non è un granché come intesa, sono riuscito a fare un 94 che secondo me è molto buono. Questi sono gli altri giocatori che mi sono capitati, volevo provare l'H7, ma poi mi ha spuntato fuori anche Suarez ho detto Messi, Neymar e Suarez possiamo solo che utilizzarli. Quindi signori direi che si può proseguire e proviamo l'impostazione di gioco ragazzi. Io gioco solitamente a campione. Allora, come mi cambia questo FIFA? Sapete che ho fatto quello di PES, ma adesso passiamo a FIFA. Quello di PES è andato molto bene signori, sono contento che mi piacciono queste prime impressioni nel gioco. Allora, FIFA è cambiato secondo me a quest'anno. È migliorato, non che ci volesse molto migliorare da FIFA 15, però è migliorato molto. In così migliorato? In tutto, in tutto. Questo qui è un gioco veramente, ma veramente più reale rispetto al 15. Perché? Perché dal passaggio, fino al tiro, fino alla corsa, fino ai movimenti dei giocatori, secondo me, è reso tutto più reale. Perché? I passaggi stavolta devi saperli indirizzare bene. Il triangolo, il passaggio filtrante, non è più preciso come una volta. Stavolta devi veramente renderlo tu preciso. Devi usare la potenza giusta, perché se no il giocatore sbaglia il passaggio. E questo secondo me è molto giusto. Ottimo, attenzione. Dov'è Messi? Sì, eccolo qua. Eccolo Messi. Subito così, un trick. Eccolo lì, io non so farli trick purtroppo. Quindi signori, il gioco secondo me è diventato molto più reale in tutto. Ma cosa che mi ha fatto vedere proprio, a parte le movenze secondo me dei giocatori, sono proprio anche il fatto che sia gli avversari, sia comunque anche i miei giocatori, spesso sbagliano o sono imprecisi magari i passaggi, soprattutto, ma anche gli stop. Spesso sono a inseguire, non facendoli apposta. E quindi tutto, tutto è molto più reale, perché appunto magari o i passaggi sono imprecisi, oppure gli stop sono sbagliati, come in questo caso. Attenzione, la mette in mezzo Neymar! Dove c'è Suarez? Che si tuffa, signori! Una cosa che notate, non so se l'avete notata anche voi, è che già a difficoltà campione, il computer per metterti in difficoltà cerca sempre di anticipare il tuo passaggio. Tu fai un passaggio verso il tuo compagno, che ha dietro il difensore, bene, lui cosa fa? Lui ti anticipa, ti passa avanti. E questa è una cosa che ci potrebbe stare. Attenzione, Messi si va con un trick. Ancora Messi! La mette in mezzo! Male purtroppo, c'è la Suarez in mezzo. Succede tutto quello che potrebbe succedere tranquillamente in una partita di calcio normale, tra passaggi sbagliati e stop sbagliati, e gran gol, e passaggi filtranti. Non è semplicissimo, ecco. Ecco, in questo questo è il caso che intendevo prima, ovvero l'anticipo, qui segato completamente. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, ragazzi, di questo titolo. Come vi è sembrato FIFA? Molto più macchinoso, anche proprio per i movimenti. Ma secondo me, come ogni anno, poi alla fine ci abituiamo a questo tipo di FIFA, di FIFA, e tutto ci sembra più normale. Un po' di confusione centrocampo. Mette ordine. Fabregas. Poi a Yature. Ovviamente questo passaggio non dovevo farlo, e infatti ho perso il pallone, come è giusto che sia. Per quanto riguarda i portieri, ragazzi, allora, li ho trovati migliorati. Dal 15. Per quanto riguarda alcune movenze e alcune parate. Per esempio, ho giocato molto spesso contro Art. E Art, quando esce, tende sempre ad aprire molto le gambe, a tuffarsi con le gambe aperte e con le braccia apertissime. E qui fa lo stesso. Molti portieri fanno la stessa parata, in modo da chiuderti di più lo spazio. E questa è una cosa ottima, perché su FIFA 15 le uscite erano tremende. Erano veramente tremende. E qui sembra le abbiano un pelo migliorate. Per quanto riguarda invece i gol sul primo palo, quelli ci sono sempre. Tanto Neymar se ne va. Fita di Neymar! Poi prova il tiro, ma viene anticipato. E quindi portieri che possono sempre essere migliorati, ragazzi. Attenzione. Non sono assolutamente perfetti. Attenzione. Gran palla per Suarez! Prova il tiro! Ma che tiro di merda che danno, ragazzi. Attenzione perché Lucas è veloce. Molto bene. Ma va, fanculo. Molto bene Siqueira qui. Ammunito addirittura. Ecco, gli arbitri, ragazzi. Gli arbitri invece sono una cosa esagerata. Fanno cagare. Sempre cagare. Secondo me non ne azzeccano veramente una. Non per questo fallo, eh. Che ci poteva stare! Attenzione, signori. Ormai prendiamo gol. Non per questo fallo che ci poteva stare, ma per proprio i falli inutili che... Che fanno. Graficamente... È molto simile a FIFA 15. Se non quasi identico, eh. Il campo si degrada sempre. Qua c'è una novità degli arbitri che c'hanno. La bomboletta spray, ma chi se ne fotte anche. E le facce dei giocatori? Le... Grande stop qua di Messi. Quelle dei giocatori più famosi sono fatte... Sono fatte alla grande. Come sappiamo. Purtroppo quelle dei giocatori... Medi. Di media importanza. Purtroppo non sono un granché. E mo qua che cazzo facciamo? Gol? Boh. Boh, proviamo a segnare. Con Messi. Scusate ragazzi. Non so se voglio neanche far vedere questa punizione. È vero che magari quest'anno la velocità serve... Serve di meno. Attenzione, serve di meno la velocità. Non serve più. Perché qui un giocatore in velocità se ne può andare. Ma... Attenzione! A Luis Suarez! Il tiro di Suarez! E c'è il gol di Luis Suarez, signori. Tridente delle meraviglie. Incredibile. Dicevo, un giocatore se ne può andare sì in velocità. Tra l'altro il tatuaggio di Messi. Madonna che figata. Scusate se mi interrompo sempre, ma... Queste cose vanno dette. Se ne può andare in velocità, ma attenzione. Perché se c'è un difensore abbastanza veloce da poterti... Non dico riprendere, ma raggiungerti. C'è anche la possibilità che ti prenda la spallina e ti tiri indietro. E quindi in qualche modo cerca di contrastare la tua velocità fisicamente. E questa è una cosa che ho notato e mi piace a volte. Perché per esempio non è possibile che... Tipo, non lo so... Mertesacker, dico uno a caso, possa prendere in velocità Hazard. Per esempio un company ci può stare. Ma non tutti i difensori centrali mi possono prendere Hazard. Quindi questa è una caratteristica che sì ci può stare. Ma non eccessivamente, ecco. Attenzione, Yathure è un mostro. Gran palla per Messi. Intanto io direi di mettere un'ultra-offensiva per provare un po'. Per vedere come si muovono i giocatori. In PES mi sembra veramente molto più facile segnare. Ha la stessa difficoltà. Perché anche in PES stavo giocando a campione. Per quanto riguarda la fase difensiva, sinceramente... Mi sto trovando un po' meglio. Perché... Adesso, guarda, guarda che... Guarda, incredibile. Vabbè, dai qui, qui ci sta. Di palo della fase difensiva nel mentre prendo gol. Comunque, bravi loro. Mi sto trovando un po' meglio. Essendo il gioco un po' più... Un po' più lento. Mi sembra tutto meglio organizzato. Guardate che passaggi di merda. Ma perché? Devo smettere di farti passaggi delle cazze. Così capite quello che dicevo. Porca puttana. Yathure, il tiro da fuori! Madonna, che palo che ha preso Yathure. Yathure c'è una schisella, ragazzi, che è devastante. Non è la prima volta. Il tiro di Ibra. La me... Era più una me... Non ci credo, su base. Che miracolo che mi ha fatto. Se prendevo un gol così, mi sotterravo, ragazzi. Guardate... Guardate... Guardate Luis. Cosa ha fatto? Messi! Madonna, Sirigu. Ma che razza di parata ha fatto. Finici qui, signore, la partita. Ci va ai calci di rigore. Quindi ci sono anche i calci di rigore in questo video. Subito Luis Suárez. Va Luis Suárez. Segna. Forza su Basic. Centrale. Boh, no. Ci ho provato. Attenzione Neymar. Il tiro di Neymar e c'è il gol. 2-1. Edinson Cavani. Questo glielo appariamo su Basic, vero? No, centrale. Madonna, sti schifosi. Giaiature. C'è il gol. Attenzione Messi. Parata. Non ci posso credere. Ma va, pensa a te. Se su Basic la para, magari possiamo andare avanti. Su Basic la para, ma andiamo, cazzo. Piszek segna. Guardate Sirigu. L'ultimo l'ha tirato Sirigu e l'ha sbagliato. Abbiamo vinto la Coppa del Nonno, signori. Comunque, finisce qui questo video. È durato più del previsto, ragazzi. Voglio fare una parrita, un match con il tridente magico. E alla fine è uscito un video impressione. Comunque, fatemi sapere cosa ne ha pensato di questo FIFA, signori. Noi ci vediamo, ovviamente, appena esce FIFA e magari anche con qualche altro video della demo. Noi ci vediamo qui sul mio canale. Fatemi sapere, ovviamente, cosa ne ha pensato di FIFA. Noi ci vediamo al prossimo video. Se non mi piace, un commento, un consiglio. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.